Ciao ragazzi sono Lavinia e vi farò vedere un lavoretto per Natale che potete fare in casa semplicemente Allora prima di tutto abbiamo bisogno di un foglio che poi vi spiego cosa bisogna fare Un foglio, pennarelli blu, marrone, rosa e verde Una colla, vi consiglio meglio la Vinavil Un colore giallo, meglio un pennarello blu giallo giallo Quattro penn di queste Quattro di queste oppure vi consiglio le rotelle per le teste E due spaghetti, vabbè un spaghetti però lo spezzate in due che poi vi spiego cosa bisogna fare E una tazzina piccolina piena di farina e se mettete qualcosa o un po' di sopra cacao Allora prima di tutto bisogna prendere un foglio qualsiasi, ho preso questo Ho preso questo, un foglio qualsiasi più o meno spesso, questo è sottilissimo Spesso E lo mettete sotto qualcosa di morbido e ho scelto il quaderno, un quaderno di musica Comunque non ha importanza Disegniamo una grotta, così Il cielo tutto blu, io l'ho fatto più o meno un esempio Una stella cometa di sopra e qualche montagnetta di là, di qua di qua Allora e adesso inizia il vero lavoro Allora iniziamo dopo aver fatto questo Iniziamo con dire che qui, questa cosa della grotta, va più o meno fatta un po' grossa Perché poi va messo sopra il riso Però se non avete il riso mettete un po' di farina perché è sempre gialla Comunque Prendiamo la colla e ripassiamo con la vinaglico, meglio, questo bordo qua Della grotta Così Ecco qua E sopra mettiamo un po' di cacao e farina mischiata Spalmiamo così Più o meno marrone Oppure se preferite la farina o mais, farina di mais Che è molto molto meglio Insomma dopo aver spalmato Perché va poco Però vi consiglio di mettere il riso Che è molto meglio, molto molto meglio Ok Aspettate Ok Più o meno vi verrà questo Cercate di non sporcare Poi prendiamo una pennetta E la disegniamo tutta di marrone Tutta Tutta, proprio tutta, 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 tutta Ci vorrà un bel po', raga Non pensate che Io questo lavoro ci ho fatto manco due ore Comunque farò prima Farò tipo una di blu Eh, mannaggia Poi un'altra pennetta La disegniamo di verde Una di rosa E una di azzurro Grazie a tutti